Essere figlio di Robby Facchinetti è una gran figata, è stata una gran figata per un insieme di motivi Frivoli, del tipo, entravo nei locali gratis e quando di conoscere qualcuno, ciao sono Facchinetti Magari in qualche voto più alto, in cambio di biglietti, me lo davano E invece in cose più alte è che mio padre mi ha insegnato a lavorare nel mondo dove io poi sono andato a lavorare La raccomandazione più grande non è la telefonata, la telefonata è un gesto che può accadere Ma la raccomandazione più grande è insegnarti a fare quel mestiere Qualsiasi figlio d'arte che dice che essere figlio di un personaggio famoso è limitante dice una bugia Non mi sono mai sentito schiacciato da mio padre, a parte che mio padre è piccolo, io sono quasi 1,90 Quindi a parte quella della statura, però è stato un padre con mia madre, sono stati perfetti con me